buonasera ragazze ben ritrovate sul mio canale stasera video tutorial vediamo se riesco a girare il video tutorial di questo modulino che ho chiamato scusatemi ho chiamato marianna avete visto l'anteprima in questa versione di colori stasera invece faremo il tutorial di questa versione che diciamo è più tono su tono ne ho fatta anche una terza perché vi mostro tutti e tre perché tra i tre ci sono delle devi differenze ed ovviamente ve le dico allora prima di tutto l'utilizzo dei rivoli in tutti e tre sono stati utilizzati dei rivoli da 14 in questi due sono della swarovski e sono come vedete quindi più piatti in quest'altro invece è stato utilizzato un rivoli di quelli in resina che sono più spessi quindi l'incastonatura è venuta leggermente diverse quindi il modulino è più bombato ma non per questo insomma meno carino però io ve lo dico perché se pensate di ottenere risultato più piatto se utilizzate un rivoli in resina da 14 verrà sicuramente più bombato altra differenza e l'utilizzo delle rocaille in questo caso ho utilizzato delle rocaille della toho in questo caso invece invece ho utilizzato delle miyuki e quindi vengono anche in questo caso leggermente diversi come vedete qui stesso rivoli swarovski però comunque utilizzando le toho che sono leggermente più grandicelle viene più piatto vedete anche se di poco però io poi ve le dico queste cose così che sappiate a cosa andate incontro invece utilizzando tutte miyuki come farò io adesso nel tutorial il risultato finale sarà questo ovviamente voi stare a voi giocare con i colori se tono su tono se giocare di contrasto questo sarà a voi e dalla vostra fantasia vi volevo anche dire che questo modulino è molto carino anche come ciondolo cioè inserendo una susta qui o qui al posto della monachella o del perno comunque viene anche un bel ciondolo insomma grandicello guardatelo sulle mie mani vi rendete conto che sarà un tre centimetri e mezzo insomma giù di lì è ovviamente leggero perché parecchio traforato e l'incastonatura è di tipo netted quindi è si fa abbastanza velocemente anche se si deve passare un po di volte per irrigidirlo però il modulo è di semplice esecuzione passiamo dunque all'elenco dei materiali dimenticavo farò poi casomai un video brevissimo per chi volesse replicare questo diciamo intramezzo non so come chiamarlo che un modulino fatto con rocaille 11 0 15 e super duo se volesse proprio ricreare lo stesso modulino però lo farò in un video a parte altrimenti diventerà un video lunghissimo allora passiamo quindi all'elenco dei materiali ci servirà come abbiamo detto un rivoli da 14 ci serviranno dei mezzi cristalli da 3 mm io sto utilizzando questi per ogni modulino ne serviranno 12 8 come vedete per l'incastonatura e 4 in questi punti che ovviamente poi potrete anche variare qui insomma mettere delle perline da 3 io vi dico quello che ho utilizzato poi serviranno delle super duo serviranno 8 super duo per ogni modulino serviranno ovviamente delle paisley io sto utilizzando queste sempre nel numero di 8 per ogni modulino e poi serviranno due colorazioni in questo caso mi chi poi vi ho mostrato nel caso utilizzate le toho le miyuki sono da 11 eccole qui sono le matt metallic gold rainbow e le duracot galvanized champagne due colori a mio avviso molto 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 belli e particolari poi ovviamente servirà un anellino nel mio caso e un pernetto una monachella quello che preferite io in questo caso utilizzo il fire line ma in quest'altro caso in quest'altro caso ho utilizzato il miyuki a doppia mandato cioè ho passato il filo raddoppiato se no dovevo ripassare tantissime volte allora passiamo subito al dunque lago sto utilizzando questo della tulip quindi metto sistema un attimo le perline e cominciamo quindi per prima cosa mettiamo sul lago questa sequenza alternando un mezzo cristallo da tre millimetri e due rocaille dobbiamo farlo per otto volte in tutto quindi otto mezzi cristalli intervallati da due rocaille e chiudiamo a cerchio una volta che abbiamo chiuso a cerchio cosa faccio entro con lago nel mezzo cristallo ho fatto un nodino ovviamente ed esco dalla esco dalla prima rocaille 11 0 della miyuki ed inserisco otto rocaille sempre della miyuki sempre numero 11 ovviamente 3 quindi ho inserito come vedete otto rocaille cosa faccio salto queste rocaille salto la rocaille in mezzo cristallo e la prima rocaille e dentro qui nella 11 successiva e in questo modo rientro in questo modo e faccio lo stesso per gli altri lati quindi uscirò da qui inserirò otto rocaille ed entrerò qui e farà lo stesso per tutti e quattro i lati a giro finito ovviamente ci troveremo in questo modo io sono entrato scusate in questo modo io sono entrata qui non ci fate caso il filo esco da qui rientro nel mezzo cristallo rientro nel mezzo cristallo si vede un ciuffolo allora praticamente ecco rientrerò nel mezzo cristallo ed uscirò praticamente dalla quinta rocaille e vi mostro quindi uscirò così vedete esco dalla quinta rocaille ed inserirò tre rocaille sempre 11 0 sempre nello stesso colore ovviamente poi starà a voi insomma ora una volta che abbiamo caricato le tre rocaille che facciamo entriamo nell'altro dove abbiamo fatto questo picco enorme non so come chiamarlo entro nelle due centrali faccio così per tutti quanti giri cioè per tutti gli altri lati stiamo preparando l'incastonatura ho caricato le ultime tre rocaille e adesso quindi rientro in queste per chiudere il giro rientro quindi le ultime due come vedete si formerà una una sorta di gabbietta in cui io andrò a inserire il mio rivoli da 14 ovviamente ragazze questa gabbietta sarà molto larga ora andiamo a stringere sarà molto larga vedete sul davanti perché voi noi andremo a decorare il davanti con le rocaille quindi è fatta di di proposito dietro naturalmente passate 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 e stringete il tutto una volta che siamo ripassate più forte quando insomma la parte di sotto ci sembra ben stretta risaliamo nella parte superiore ed andiamo a concludere il decoro dell'incastonatura quindi rientriamo ed usciamo da un mezzo cristallo da un mezzo cristallo ed inseriamo una rocaille 11.0 nel mio caso io la storia la inserirò del colore più scuro una sola trocaille aspettate una sola rocaille quindi entrerò uscirò da questo mezzo cristallo una rocaille ed entrerò nell'altra in questo modo facciamo un'altra volta in questo modo così andremo a stringere andremo a stringere tutto e poi andremo ad inserire un'altra rocaille quindi fate questo procedimento di inserire una rocaille tra i due mezzi cristalli per altre sei volte una volta che abbiamo inserito tutte le rocaille 11 tra i due mezzi cristalli che facciamo rientriamo rientriamo nella prima 11 che abbiamo inserito e inseriamo a questo punto e inseriamo a questo punto 2 11 nel mio caso queste più chiare color champagne ed entriamo nella rocaille successiva entriamo nella rocaille successiva che abbiamo inserito in questo modo e tiriamo facciamo questo per tutto il giro questo ovviamente è ciò che ci troveremo a giro finito io vi consiglio di ripassare nuovamente in tutte queste ultime rocaille per stringere il lavoro e poi ci portiamo ad uscire da una di queste ci portiamo ad uscire dalla rocaille 11 che precede il mezzo cristallo come vedete sono uscita dalla rocaille prima del mezzo cristallo da 3 ed andrò ad inserire 3 rocaille 11 0 del colore più chiaro supererò salterò il mezzo cristallo ed entrerò nelle due rocaille successive in questo modo oh mi sono tirata dietro tutte le berline vabbè non ci fate caso quindi in questo modo farò questo per tutto il giro a giro terminato ci troveremo in questo modo usciamo da una rocaille centrale di quelle appena inserite e mettiamo sul lago 3 rocaille 11 0 e la paisley ok in questo modo in questo modo ok non ci confondiamo perché se sbagliamo a inserire le paisley alla fine non ci troveremo poi con il con il decoro che dobbiamo fare quindi 3 rocaille la paisley in questo modo ed entriamo nella rocaille centrale del picot successivo in questo modo in questo modo ora che faremo inseriamo l'altra paisley in questo modo una paisley in questo modo e 3 rocaille io sto utilizzando sempre il colore chiaro ovviamente è una questione di gusto e vado ad inserirmi nella punta se ci riesco nella nella perlina centrale del picot successivo in questo modo quindi io dovrò fare questo e lo dovrò fare per tutte le altre volte quindi 1 2 3 e 4 semplicemente a giro finito vi troverete praticamente il modulino a questo punto mi raccomando ve lo lascio guardare un altro paio di secondi per farvi capire il verso delle paisley ovviamente queste sono le ultime inserite io mi sono ricollegata alla rocaille centrale ora risalgo nelle tre rocaille successive risalgo nelle 3 rocaille successive nella prima paisley nella rocaille e nell'altra paisley ma questa questa paisley non so come lo dico la dico proprio a caso così rientro quindi sono entrata nella prima nella centrale nella seconda rientro qui nella prima rocaille che mi trovo e vado ad inserire tre rocaille nel mio caso dell'altro colore quello più scuro e rientro qui nella prima nelle paisley in quella centrale nell'altra paisley e così via ok quindi vado a fare questo decorino il rinforzo contemporaneamente il giro ok finito il giro mi uscirò da questa rocaille rientrerò nelle tre rocaille appena inserite quelle di colore più scuro è arrivato il momento di inserire le super duo cosa faccio vado ad inserire una 11 0 del colore scuro due super duo e un'altra 11 e rientro dal lato opposto in questo modo poi cosa faccio entro nella 11 che segue inserisco a questo punto 4 rocaille del colore nel mio caso più chiaro se riesco aspettate ne scelgo un'altra quindi quattro rocaille ed entro nel foro superiore della paisley inserisco una rocaille in questo spazietto sempre 11 0 eh in questo modo inserisco altre quattro rocaille e ridiscendo in questa 11 ridiscendo in questa 11 rientro nuovamente nelle tre più scure e faccio la stessa cosa rinserisco nuovamente le super duo e ripeto l'archetto quindi questo passaggio dovete ripeterlo per altre tre volte super duo rocaille super duo rocaille super duo rocaille come vedete il modulino sta cominciando a prendere forma quindi ho completato tutto il giro ora cosa faccio ho inserito le ultime quattro rocaille rientro rientro nelle tre rocaille nelle tre rocaille rientro anche nelle quattro successive che abbiamo inserito che abbiamo inserito sulla paisley e poi andrò a inserire quattro rocaille del colore chiaro uno, due, tre, quattro una del colore più scuro ed altre quattro del colore più chiaro ok, ricontiamo ok e dentro in questa tutte le rocaille che seguono tutte, tutte, tutte rientrerò ecco dovrà avvenire un archetto così rientrerò in tutte le rocaille e farò lo stesso anche su tutti quanti i lati poi nel fare questo passaggio decidete voi se ripassare nelle tre oppure nelle super duo tanto è indifferente tutt'al più le super due si avvicineranno leggermente io passo passo sotto per una mia comodità ovviamente a giro finito ci ritroveremo in questo modo cosa facciamo risaliamo abbiamo inserito queste ultime quindi risaliamo ed usciamo dalla terza rocaille per intenderci da quella che abbiamo inserito a contrasto dobbiamo risalire nelle tre successive ed inseriamo a questo punto 5 rocaille 11 ed entriamo nella super duo nel foro superiore della prima super duo che incontriamo inseriamo a questo punto un mezzo cristallo da tre oppure non so una perlina quello che che volete insomma dobbiamo dobbiamo necessariamente riempire questo spazio inseriamo nuovamente 4 rocaille 11 0 ed entriamo quindi in queste sette centrali quindi risaliamo 3 quella centrale e le tre successive in questo modo e tiriamo e dobbiamo fare questo per tutti quanti giri quindi qui inserirò 5 rocaille mezzo cristallo 5 rocaille e mi inserirò nelle sette centrali faccio questo per tutto il giro chiedo scusa mi ero distratta dobbiamo rientrare nelle tre rocaille saltiamo quella centrale e nelle tre successive perché dobbiamo creare questa sorta insomma di puntina ecco quindi quella centrale più scura la saltiamo come vedete mano mano che inseriamo le rocaille dell'ultimo giro comincia leggermente ad incurvarsi voi proseguite tranquillamente fino a fine giro il modulino è materialmente completato ripassate nuovamente in tutte le rocaille e decidete poi se posizionarlo in questo modo e quindi creare qui un cappietto per l'orecchino o per inserire una susta o un ciondolo oppure se posizionarvi in questo angolo io mi posizionerò in questo angolo e creerò un cappietto con 45 rocaille allora il modulino è completato fatto il cappietto inserito un semplice anellino ed una susta niente ragazze io spero che il modulino vi piaccia è un modulino molto versatile anche come ciondolo io purtroppo ne avevo fatto uno con delle paisley borgundi mi sembra e ci avevo messo sotto insomma una nappina un ciondolo lungo con una bella nappina quindi il modulino è veramente versatile anche giocato con un altro modulino nella parte superiore spero che insomma il video e il modulino vi sia piaciuto e vi ringrazio ancora di cuore perché il mio canale sta crescendo grazie anche a voi e dal vostro supporto e non può farmi che piacere quindi un bacione a tutte dimenticavo vorrei fare prossimamente dei piccoli tutorial su qualcosa di natalizio ma non di perline tipo come creare dei bigliettini d'auguri natalizi con gli acquerelli oppure dei piccoli tag da mettere sui pacchettini insomma volevo fare qualcosa di diverso venerdì nove andrò in fiera creativa a Napoli spero di incontrare qualche partenopea incontriamoci tutte lì venite numerose io andrò il venerdì e spero di divertirmi di incontrare tante belle persone e niente ragazze ancora grazie spero di vederne tanti e il mio ultimo video ho parlato di armocromia ed ho fatto un giochino per regalare a qualcuna o un mio bijou o un pacchetto creativo quindi per chi se lo fosse perso metterò il link qui sotto per poter partecipare a questo giochino vi saluto con il mio modulino Mariana e niente ragazze un bacio ciao 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 ciao